L'ambito finanziario in Italia siamo 30 anni dietro rispetto agli Stati Uniti. Non so per quanto ci saranno ancora queste opportunità, ma oggi ci sono molte opportunità. A questo punto piano finanziario, siamo nel 2017, l'hai fatto per due anni in maniera un po' garagista. A questo punto diventa un'azienda o non ancora? Sì, no, era già un SRL, la prima persona è arrivata nel 2018, un assistente. E quanti clienti avevi, più o meno? Cento, centinaio, era ancora piccolo. Inizio a sviluppare l'online, quindi formazione online, corsi, su corsi, insomma la libreria è aumentata. Sono aumentati non solo i corsi, ma abbiamo iniziato a produrre dei software, quindi degli strumenti di calcolo, poi portafogli di investimento, insomma è diventato non più un sito con dei corsi, ma un'infrastruttura per rendere la persona autonoma nella gestione delle finanze, da ogni punto di vista. Poi, avanti veloce, siamo arrivati che molti clienti dicevano, ascolta, bravi, ma io ho due milioni, gesticemelo te. Non darmi il portafoglio, fallo tu. E allora abbiamo fatto, appena sono riuscito a trovare anche l'organizzazione giusta, abbiamo fatto la società di consulenza. E quindi adesso sono due realtà parallele, condividono il brand, ma sono due società, una che fa consulenza e una che fa formazione. E siamo arrivati ad oggi, ci rendiamo conto che ci si può espandere ancora molto, nel senso che ci sono tante nicchie inesplorate, o esplorate male. Da questo punto di vista, secondo me, l'ambito finanziario in Italia, siamo 30 anni dietro rispetto agli Stati Uniti, e quindi vedo che ci sono molte, non so per quanto, ci saranno ancora queste opportunità, ma oggi ci sono molte opportunità. Diciamo, se dovessi riassumere quello che ho capito, corregimi se sbaglio, tu hai un canale di acquisizione che è il mondo social, in particolare YouTube. E lì, mettendo contenuti gratuiti, fai capire alla gente chi sei, cosa offre, eccetera, e poi loro scendono pian piano nel funnel. Questo funnel ha due ramificazioni, uno per il cliente più, chiamiamolo retail, più piccolino, più lavoratore dipendente, che dice, io voglio capire questi concetti, e tu allora a questa persona dai conoscenza e strumenti per essere sostanzialmente autonomo. Io ti dico come fare, ma poi lo devi fare tu. All'altro, che invece, chiamiamolo più istituzionale, che immagino possano essere ai network individual o aziende, che hanno magari capitali un po' più grandi, ti dicono, senti, io non voglio l'excellino, le cose, fammelo tu, e lì è un po' come le banche, diciamo, più tradizionali. Nì, nel senso che l'azienda si chiama Piano Finanziario perché crediamo nella pianificazione. Quindi, prima di parlare di titoli, noi creiamo un progetto sulla persona di raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari. Quindi, e questo, secondo me, è il mio approccio ingegneristico. Cioè, io mi sono avvicinato a questi temi con un approccio utilitaristico. Cioè, bello gli investimenti, ma a me deve dare libertà e il denaro. Cioè, mi deve dare delle cose, ok? Non è il fine, è un mezzo. Certo. Questo è quello che trasmettiamo, sia in formazione che in consulenza. In consulenza creiamo proprio dei progetti. E questo in Italia non c'è perché questo è il CFP in inglese, Certified Financial Planner. Cioè, noi abbiamo iniziato a farlo nel 2018-19, adesso ci sono i primi casi in Italia. Certo. Negli Stati Uniti c'è l'albo del CFP. Ok. Quindi, che è chi fa pianificazione, che non sono consulenti finanziari, sono pianificatori. Certo. Quindi, noi ci crediamo molto e quindi coinvolgiamo il cliente, dopo ovviamente la gestione del patrimonio, ma prima l'identificazione di quello che voglio realizzare. Ma questo secondo me è un concetto molto importante perché spesso sento dire, non è la prima volta che nel podcast parliamo di gestione del risparmio, spesso sento dire, dimmi cosa devo fare. No, dammi il suggerimento. Cosa deve fare uno nel mio caso? E molti di quelli che appunto ne sanno rispondono a quello che dici tu. Io non ti dico cosa devi fare finché tu non mi dici cosa vuoi fare. È ovvio, è come andare da un medico e dire, dimmi che medicina hai. Esatto, senza dirgli che male hai. Sì, prenditi il malox. O magari hai un problema, hai un'artrite al ginocchio, non lo so. Certo, certo. Perché la gente tratta la gestione del denaro come se fosse, pensa di essere al supermercato. Non la tratta con quella che dovrebbe essere… Cioè non la tratta con il rispetto che ha per altre tematiche, no? Tipo la salute. Certo. Cioè tu ti difenderesti, se uno ti facesse causa, ti difenderesti da solo in tribunale? No, cioè vai da un avvocato, no? Certo. Allora, il fatto che abbiamo un telefono che ci permette di fare compravendita di titoli o il fatto che la banca ti permette di fare determinate operazioni non vuol dire che tu ne abbia le competenze. Certo. Quindi, purtroppo questa è l'unica industria in cui le persone fanno da sole, senza sapere, e poi si contano i danni. Quindi però, se è giusto non dare una risposta, se non è chiaro qual è… Cioè è la cosa intellettualmente più onesta da fare. Certo. Lo farebbe un medico, non vedo perché non lo debba fare un professionista. Lo fanno in banca perché ti devono vendere i titoli. E allora parlano di quello. Certo. Ma un vero professionista non ti dà la risposta se non ha capito che persona sei. Certo. Gestire un portafoglio di investimento non deve essere un'impresa titanica, ma troppo spesso gli investitori cadono vittima di una serie di errori evitabili. Diversificazione inadeguata, scarsa conoscenza degli strumenti finanziari, costi di gestione del portafoglio eccessivi, e infine mancanza di una strategia chiara nella gestione del portafoglio. Se ti sei sentito chiamato in causa su uno o più di questi punti, non perdere l'offerta sulla nostra guida introduttiva al portafoglio di investimento dal titolo Portafoglio a raggi X. Puoi accedervi con un'offerta esclusiva fino a domenica 30 giugno. Prendi il controllo del tuo portafoglio ora. Tra l'altro questo ci porta all'altro tema dell'allineamento degli incentivi rispetto a chi ti dà un consiglio e tu che lo stai chiedendo. Perché come hai detto prima, se io in banca sono incentivato per ogni volta che piazzo questo titolo, questo fondo, questa cosa, il mio incentivo è vendertelo. Certo. E guadagno io un bonus, te lo vendo. Ma non vuol dire che sia la cosa migliore per te. E questo è un grande problema. Direi di sì, è come andare da un medico che può vendere solo le medicine di quei cinque marchi. Certo. Cioè fidati. Certo. Però nessuno se lo chiede. Bravo. Scusami, ti interrompo, ma è giusto per farti capire che da un lato lo sappiamo tutti, dall'altro poi la gente non vuole pagare per i servizi o fa fatica ad accettare il pagamento del servizio. Quindi ti esplode la testa in questa industria. Se non sei spinto da un perché forte, mi chiedevi, ma perché? Perché l'hai fatto? Perché devi avere un perché forte che è quello che vuoi comunicare, il valore che vuoi dare agli altri, eccetera. Perché in questa industria la gente fa di tutto per non pagare il servizio e rovinarsi con le proprie mani. E tu li devi andare a salvare una alla volta. E se non hai una grande passione non reggi, perché per quanto faccia dei video c'è gente che dice hai tre anni che ti segui e sono diventato cliente. Dici, bene, mi fa molto piacere che tu sia diventato cliente, ma hai tre anni. Cioè, in quei tre anni cosa hai fatto? Certo. Cioè, se tu hai un problema di salute dal medico ci devi andare… Aspetti tre anni? No. No. In questa industria è così. Ci devi credere forte, forte. Certo, certo. In quel che fai. E quindi è anche un tema, se vuoi, di identificazione del fuffaguru, questa domanda che dovrebbe… Ovviamente. Cioè, se non te la fa, scappa. Se non ti chiede quali sono i tuoi eventi. Assolutamente. Se non ti chiede, ok, ma perché mi stai chiedendo come gestire questo mezzo milione, scappa. Non solo. Se ti dice fai come me perché io l'ho fatto e allora lo puoi fare anche tu, quello è proprio bollino di garanzia, bollino di fuffa, no? Perché io non consiglio a nessuno di fare quello che faccio io. Certo. Cioè, perché non è detto che uno abbia la voglia, il tempo, le competenze, il pello sullo stomaco per fare quello che faccio io. Certo. Nel bene o nel male, tanto poco che sia, perché su certe cose magari sono cauto, su altre sono molto aggressivo. Io ho una società immobiliare anche, non consiglio a molti di fare quello che faccio io. Perché posso avere, cioè, ho i miei soldi, dei soci qualificati, sono nell'ambiente che non è Milano, ma Modena dal punto di vista immobiliare non è male. Ho i clienti che vedono che faccio operazioni, che vogliono finanziare operazioni. Ho clienti che ci scrivono, ho un immobile in vendita. Ti interessa? Cioè, queste cose qua mi portano delle opportunità che la persona che non ha questi strumenti non ha. Quindi è inutile dire, fallo perché ce l'ho fatta io. Sì, fatti prima un canale, crea tutto Stambaradan e dopo magari l'opportunità si crea. Certo. Quindi i consigli decontestualizzati sono veramente il male definitivo di chiunque si professa come un esperto, in qualunque ambito. Ma sono contento che tu abbia citato questa cosa della società immobiliare perché, non ne voglio parlare nel dettaglio, ma è un messaggio che voglio dare ai manager che ci ascoltano. Quando fai bene una cosa, devi continuare a farla bene e poi costruire un mondo di uncillaries che stanno lì di fianco, che possono in qualche maniera sfruttare quanto bene tu faccia il core e diciamo in maniera laterale aumentano la tua capacità di catturare valore da quello che hai. Certo. E quindi è ovvio che quando uno gestisce denaro l'immobile è lì di fianco. A metà del patrimonio degli italiani in immobili. Ecco, e quindi dici, cioè il messaggio che voglio dare è va bene concentrarsi su una cosa, ma devi guardare sempre a 360 gradi e capire se ci sono delle cose adiacenti a quello che stai facendo che puoi mettere in piedi sempre, l'ho detto due volte e lo ripeto alla terza così non ci sbagliamo, continuando a fare bene il core. Cioè non deve essere una distrazione, deve essere una cosa che va col 3% del tuo tempo o col pilota automatico che però diciamo si attinge dal tuo core e quindi in questo caso possono essere capitali. prendo acquisti, metto di lì, li immobilizzo, cresce il valore, li vendo, li metto di qua eccetera eccetera, però così facendo invece che farlo in partnership, me lo faccio in house, sono molto più lean, catturo molto più valore e sono molto più flessibile anche perché posso arbitrare il rischio in una maniera molto diversa. Sì sì, ma infatti l'immobiliare è un esempio su cui però purtroppo è un esempio fisico, non di servizi di consulenza e lì con i miei soci abbiamo deciso di non crescere più di tanto, ad esempio non portare il brand Wendhouse su scala nazionale, avremmo potuto ma nessuno ne voglia, però sicuramente l'opportunità ci sarebbe. Invece lato consulenza alla grande perché quando tu ti fidi di un interlocutore, ma perché ne devi andare a cercare un altro? Cioè gli chiedi, ascolta sai fare anche questo per caso? Perché io ho questo problema e quello che succede è che dei clienti entrano per una cosa, stanno con noi 4-5 anni e in mezzo gli abbiamo aiutati su molti altri aspetti che non erano la loro prima richiesta, ma lì c'è proprio stato un investimento proprio nello sviluppare il cliente, nel risolvergli un problema e dire bene, ok questo l'abbiamo messo a posto. Guarda qui c'è anche questo, 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 che ne dici? Guarda che potremmo darti una mano a risolverlo, ci sono queste opportunità. questo è il lavoro che stiamo facendo adesso, quindi stiamo crescendo molto di servizi laterali, non più frontali. Infatti online si vede poco quello che facciamo perché l'offerta è talmente ampia sia lato formazione che lato consulenza che servirebbe un catalogo con 20-30 i corsi, sono migliaia di ore di corsi.